Mi trovo a Roma in stazione dei treni. Oggi è stato un giorno importante perché assieme alle mie colleghe della nazionale sono venuta a fare delle visite per i giochi europei di BAPO. Sono felicissima di fare questo video in italiano perché so che Vox Women è diventata una realtà di spessore e di livello all'estero. Spero diventi così presto anche in Italia. È un canale bruttuoso per noi, per farsi conoscere e così spero che anche i miei tifosi italiani possano seguirmi e capire al meglio quello che voglio dire nei video. Quindi grazie per questa opportunità Vox Women. Spero che molte altre mie colleghe italiane possano fare lo stesso. E niente, adesso aspetto di tornare a casa se riesco a cambiare il biglietto del treno. Ciao, Vox Women! Grazie per la visione!